Ciao ragazzi, ci ritroviamo qui a commentare come ogni venerdì Marco Travaio e il suo intervento ad accordi e disaccordi. Stasera molti temi, sempre la guerra in Ucraina, Conte che fa i complimenti alla Meloni, la trattativa Stato-Mafia che prende gran parte della puntata e la figuraccia del governo Meloni per iniziare. E iniziamo subito proprio da questo, dalla figuraccia del governo Meloni. Travaio dice non penso che centri molto il ponte del primo maggio, naturalmente stiamo parlando del fatto che è stato votato lo scostamento di bilancio riferito al DEF e non c'era la maggioranza, da parte appunto della maggioranza, è stato bocciato praticamente e questo è successo l'altro ieri ed è una grandissima figuraccia perché non è mai successo, questo dice Travaio che fosse bocciato il DEF e fra i leghisti ne mancavano 15. Allora, cosa dice Travaio in sintesi? Che è un segnale mandato dai leghisti salvignani, da quelli che non vanno tanto d'accordo con la Meloni è tipo un'operazione di cecchinaggio perché chi doveva capire è stato avvisato che deve condividere di più le scelte del governo come se la Meloni fosse un po' troppo autoriferenziale, insomma iniziano un po' a farsi sentire quelli che dicono guardate ci siamo anche noi perché sennò diventa troppo un governo Meloni ma il governo Meloni non sarebbe tale se non ci fossero anche i leghisti e anche i berlusconiani e quindi questo è quello che pensa Travaio di questa vicenda che sia stato un segnale mandato dai leghisti ripeto, un'operazione per lui di cecchinaggio. Questo è in sintesi e poi di cosa hanno parlato stasera? Il tema principale, quello che è stato più trattato è la trattativa appunto Stato-mafia. Non sappiamo quante volte Travaio si sia riferito a Dell'Utri nei suoi discorsi quando parlava di Berlusconi per il fatto della trattativa Stato-mafia. La Cassazione ha detto che il fatto non è stato commesso e quindi è come se mettesse una pietra tombale su questa vicenda. E dice Travaio che il fatto si riferisce non al fatto storico ma al fatto reato. Cioè in capo a Dell'Utri e gli altri c'era il fatto di aver veicolato la minaccia dei mafiosi. Infatti poi tolsero il 41 bis eccetera eccetera. Nel senso noi fermiamo le stragi, cosa che poi non è successo, se in cambio fate questo eccetera eccetera. Cioè dire basta alle bombe per ottenere qualcosa. E quindi diciamo cosa dice Travaio? Un messaggio ricevuto tipo da Mangano ma non veicolato a Berlusconi secondo la sentenza d'appello. Cioè non c'è dolo che l'abbiano fatto, non l'hanno fatto a fin di male. E la Cassazione non solo dice questo, ma dice che non c'è la prova proprio che abbiano veicolato dei messaggi mafiosi. Quindi la cosa è un po' come se stupisse Travaio perché dice come non c'è la prova che abbiano veicolato dei messaggi mafiosi. Quindi questo non dice proprio che non è d'accordo con la Cassazione, con la Cassazione abbia detto una Cassazione, una Cassatazione. Non so come si può dire. Però comunque sia lo lascia intendere Travaio perché dice lo hanno detto loro, i mafiosi, cioè d'averla fatta questa trattativa. Ma lo hanno detto Mori e De Donno, ma non solo l'ha detto Brusca, l'ha detto addirittura Rina che c'è stata questa trattativa. Ma una trattativa di nascosto, dice Travaio, non da noi ma dallo Stato stesso perché è come quindi dallo Stato e dai loro capi. Perché come Mori e De Donno poi non l'hanno comunicato ai loro superiori che stavano operando questa trattativa. Dice se qualcuno si infiltra, qualsiasi infiltrato, carabinieri, eccetera, naturalmente lo fa quando è autorizzato dai suoi capi. Invece i capi in questo caso non sapevano niente. Dunque è chiaro che ce l'hanno mandati. Cioè è chiaro che qualcuno ce l'ha mandati, dell'utri, eccetera, eccetera. E quindi se ce l'hanno mandati probabilmente intende dire Travaio che hanno poi riferito a chi ce l'ha mandati. Guarda caso, gente come Mori e De Donno, insomma comunque sono stati poi tutti questi presunti che erano prima della sentenza di Cassazione, almeno insomma perché io vi sto un po' facendo una sintesi quindi commentando quello che ha detto Travaio non sto esprimendo una mia opinione. però diciamo quindi chiamiamoli questi presunti a questo punto visto la sentenza Mori e De Donno, comunque sono stati poi premiati però non, cioè lascia intendere Travaio che non ci dicono, non vogliono dirci nulla in realtà perché tutti dicevano che dovevano combattere i mafiosi e gli stessi rappresentanti dello Stato che dicevano a un pubblico di combattere i mafiosi non potevano naturalmente ammettere che nel frattempo si stava facendo una trattativa con la mafia per evitare altre stragi, eccetera, eccetera. per cui è nascosta da noi questo tentativo di trattativa e magari queste persone qui che sono state mandate a trattare con la mafia probabilmente sono state anche coperte dagli stessi che hanno fatto finta di non sapere nulla. Insomma, quindi questo è quello che deduco dal discorso cioè io naturalmente non sto esprimendo delle mie opinioni perché non sono un esperto di questo ma vi sto raccontando un po' quello e commentando quello che ho ascoltato e forse posso anche sbagliare per cui poi se qualcuno di voi non è d'accordo come sempre scrivetelo nei commenti anche se dico delle castronerie poi si passa dopo a parlare e poi riguardo questo argomento in parte dice Travaglio un'altra cosa che ricordo che Rina stesso insomma è stato molto chiaro sul fatto che ci sia stata una trattativa tra lo Stato e la mafia quindi insomma questo è un argomento ancora tutto aperto nonostante secondo me questa sentenza poi si passa a Conte Conte fanno sentire un piccolo video no, mandano un piccolo video dove dice che la Meloni praticamente abbia dato un segnale il 25 aprile per cui diciamo mentre la sinistra contesta cioè quella che chiamano sinistra insomma contesta il fatto che la Meloni non si sia mai espressa sul fatto per esempio non abbia mai detto sono antifascista eccetera eccetera invece il 25 aprile secondo Conte con la lettera che la Meloni ha scritto quello che è successo insomma ha dato un segnale vabbè Travaglio cosa dice in merito a questo non penso che sia tornato il fascismo ogni volta che qualcuno ha provato a torcere la Costituzione in maniera verticale mi è piaciuta molto questa espressione a torcere la Costituzione in maniera verticale per cui andare in modo sempre più piramidale in un certo senso gli italiani si sono sempre ribellati a questo insomma non gli hanno mai permesso e ci sono dei fascisti al governo dire certo la russa se non gli dai del fascista si offende abbiamo visto tutti lo sappiamo tutti chi è la russa per cui certo ci sono dei fascisti però non pensa che possa tornare il fascismo o si possa instaurare qualche tipo di di dittatura su questo non sono del tutto d'accordo con Travaglio perché il fascismo è così come la mafia secondo me non sono soltanto così come la mafia non è un'associazione di persone soltanto ma è anche una filosofia qualcosa in cui in un certo senso qualcuno crede per cui qualcuno vive altrimenti non sarebbero così pazzi da magari certe persone da restare come Totorina nascoste per o com'è quell'altro che hanno preso da poco Matteo Massina del denaro insomma stare nascosti fare una vita del genere alla fine non vedo nemmeno non è che stanno sullo yacht no da miliardari a fare una vita da sogno diciamo dicendola all'abriatore gente che comunque è nascosta per anni e quindi non è non penso che per cui per farla breve insomma non non penso che penso che ci sia una filosofia qualcosa in cui i mafiosi credono no che magari vi ha inculcato da piccolo crescono così insomma in delle famiglie eccetera per cui c'è un un credo una fede una professione di fede verso qualcosa e così io allo stesso modo il fascismo non c'è solo l'associazionismo per cui dice sai non può tornare il fascismo adesso a parte che la gente è troppo intelligente non si fa fregare invece sappiamo benissimo com'è la situazione basta vedere poi come votano gli italiani ma sappiamo anche benissimo e non capisco come possa sfuggire anche agli intellettuali a molti opinionisti a tanta gente che parla in televisione non capisco come gli possa sfuggire il fatto perché no basta aver studiato insomma un po' di filosofia che il anche sociologia che il fascismo è anche un'ideologia no e quindi essendo un'ideologia è qualcosa in cui qualcuno crede è una filosofia è qualcosa che esiste anche al di là dell'associazionismo nel senso ciò che trovo almeno io pericoloso del fascismo non è tanto il fatto che possano adesso insorgere delle truppe fasciste e possa tornare alla dittatura ma che la dittatura sia ideologica cioè per dire non è che se una persona che ne so vive emarginata da una società magari perché ok perché come succede no in alcuni paesi che vengono addirittura condannati perché magari la pensa diversamente per motivi religiosi insomma sappiamo le tante sfumature del fascismo mafioso che ci sono anche nel resto del mondo perché alla fine possiamo il male definirlo no in tanti modi possiamo chiamarlo fascismo mafioso però sempre male è nel senso non lo sto dicendo nel senso cattolico perché non sono sono ateo per cui figuriamo ma sto dicendo che il male che tutti poi sappiamo riconoscere sta proprio sia nelle intenzioni no perché tu sai benissimo che se vuoi imporre qualcosa agli altri o a una società un modo di pensare un modo di vivere questo non può essere un bene imporre qualcosa no le persone dovrebbero essere libere di scegliere no poi la costituzione si basa proprio sulla libertà delle persone non impone nulla la costituzione anzi è aperta anche alla varietà delle opinioni delle idee delle filosofie anche delle religioni di tutto per cui noi abbiamo una costituzione bellissima e purtroppo però abbiamo degli italiani che non sono bellissimi cioè abbiamo una costituzione che va verso secondo me la direzione del bene però purtroppo la maggior parte delle persone vanno verso altre direzioni che sono il male sì perché imporre le cose agli altri un modo di vivere tipo dobbiamo far più figli per esempio cioè quindi certi temi oppure dobbiamo noi siamo uno stato laico però sembra che dobbiamo ritornare ad essere uno stato cattolico per certa gente per cui questo modo di imporre è fascismo nel senso che il fascismo secondo me proprio per chiuderla qui è anche una filosofia che purtroppo può fare del male tanto quanto un esercito soprattutto in un momento in cui davvero si fa fatica a pensare un futuro dove la cultura abbia uno spazio maggiore rispetto al passato qui sembra che ci sia davvero un regredire della società anche a livello culturale e poi dai social alla televisione opinionisti uno da una parte uno dall'altra cioè tutti si buttano addosso un merda solo per confondere idee per non far capire più niente alle persone perché tanto si può buttare tutto in cagnara nessuno fa davvero cultura mi sono allungato troppo nel discorso ma davvero ci avrei davvero mille cose da dire potrei fare ore e ore di diretta su questi temi ma scusate stiamo parlando di ciò che stiamo commentando Travaglio ciò che lui pensa di questa vicenda io vi ho detto un po' la mia idea e cosa stavamo dicendo dice vabbè ci sono i fascisti al governo certo abbiamo detto la russa se non gli dai del fascista la russa si offende quindi c'è un grande esercizio di ipocrisia dice Travaglio da parte del PD e di chi e di tutti gli altri a cui non piace chi sta al governo insomma cosa vogliamo dalla Meloni che menta no? anche questo giusto nel senso non può dire io sono antifascista non lo puoi dire se non lo sei il neofascismo è più pericoloso dice parlando riferendosi in qualche modo insomma ai tempi passati al terrorismo dice questi sono tornati un po' indietro riferendosi naturalmente a questo governo rispetto a fini però dice non è che torna il fascismo serve evitare le epocrisie e affidare questi termini antifascismo agli storici che ne sanno certamente di più non serve un dibattito fatto dalla Schlein o dall'Olo Brigida sul fascismo il 25 aprile diventerà la festa della porchetta se no perché ci avranno fatto dimenticare in un certo senso insomma dice le vere tragedie del fascismo su questo poi Scansi dopo nelle sue pagelle insomma dirà delle opinioni leggermente diverse comunque siamo su questa linea naturalmente ma c'è chi a chi un pochino preoccupa ancora il fascismo perché vi ripeto per me non è soltanto un fatto storico un fatto di esercito un fatto di dittatura reale insomma o di bastonate è proprio un fatto culturale però insomma io adoro Travaglio ho una grandissima stima di lui per cui se lui dice che non c'è da preoccuparsi io non mi preoccupo ma nello stesso tempo non c'è da preoccuparsi per un ritorno del fascismo come una dittatura un pochino ancora continuo a preoccuparmi per il ritorno del fascismo come filosofia come atteggiamento anche modo di porsi nei confronti degli altri della società e soprattutto dei più deboli dei più emarginati per cui stiamo comunque attenti secondo me anche a parlare di queste cose perché forse sono un po' più complesse e delicate di quello che appaiono e vabbè poi si parla del tema nell'Ucraina dice la Meloni certamente ha fatto questi convegni queste cose sulla ricostruzione dell'Ucraina perché l'Ucraina vincerà insomma Travaglio dice la parola pace non c'è mai ma non c'è mai nemmeno nel vocabolario di sinistra che non è riuscito a dire di no nemmeno all'inceneratore di Roma e parla naturalmente del PD della Schlein che nemmeno Schlein che nemmeno ha detto qualcosa sull'orsa no stiamo valutando il PD insomma sembra Renzi che doveva rivoluzionare insomma tutto e poi è il PD che ha cambiato lui e così accosta la Schlein a Renzi infatti poi si parla del consulente d'immagine di questa intervista a Vogue e dice perché tutti la criticano perché nell'intervento nell'intervista diciamo al Vogue l'unica cosa interessante era questa cioè parlare del consulente d'immagine ne abbiamo parlato anche anche Crozza ne ha parlato stasera e parlava di come era i colori macro micro insomma di quel ruolo armocromia ecco l'armocromia l'esperta in armocromia e consulente d'immagine della Schlein che gli ha consigliato il modo di vestirsi i colori eccetera una persona paga 300-400 euro ma tutti hanno comunque un consulente d'immagine e lo pagano profumatamente cioè queste persone che ci promettono chissà cosa cambiamenti e poi non cambia mai nulla praticamente perché tanto stanno sappiamo benissimo se non l'abbiamo capito fino adesso allora lasciamo perdere insomma non lo so di cosa stiamo parlando sappiamo benissimo di questo sistema che è proprio un sistema che per me non dovrebbe esistere questo non è uno stato democratico diciamolo chiaramente perché c'è tutto un sistema di gente uno fa finta di essere di qua di sinistra un altro fa finta di essere comunque sia fanno tutti finta di essere qualcosa per poi spartirsi un po' del bottino alle spalle della gente normale come siamo penso tutti noi qui che stiamo discutendo anche poi stiamo discutendo insieme perché io faccio questo monologo ma poi naturalmente nei commenti continuiamo a parlare infatti mi invito come sempre ad esprimere le vostre opinioni nei commenti vabbè insomma alla fine dice Travaglio che c'è il vuoto parla di di vuoto dietro l'apparenza e questo vuoto dietro l'apparenza è questo che gli preoccupa è quello che forse di cui vi parlavo io alla fine che preoccupa un po' anche me ringrazio per avermi seguito e continuiamo a parlare di questi temi nei commenti del video io vi auguro una buonanotte e vi invito a tornare alla prossima puntata di Radio Puginion Air Puginion Air Puginion Air Puginion Air